Spumante e panettone da 5 kg per festeggiare nello spogliatoio, Massimo Zanetti, patron di Coesta Virtus, accompagnato dal componente del CDA Luca Baraldi, ringrazia per le emozioni e soprattutto per aver afferrato il messaggio mandato alla squadra nel momento della crisi. Molto bella, molto sofferta, i ragazzi sono stati bravi, hanno dimostrato grinta che era quello che noi volevamo, che lottassero fino in ultima. Un gentile straordinario. Grande, gentile, ha fatto 32 punti, tu di così cosa puoi chiedere. Il 2017 è stato l'anno della Virtus, della sua rinascita, firmata a Segafredo, un anno indimenticabile. È stato un grande anno perché siamo stati promossi, abbiamo vinto Coppa Italia, adesso siamo in A1 e il nostro obiettivo è quello di arrivare ai play-off e con un'altra cosa. L'importante è quello che la squadra dimostri, ho detto prima, grinta e che si faccia rispettare. Bisognava chiudere il 2017 in questa maniera qui? Sì, è stata una partita importante, difficile, ma più difficili sono, più importanti sono per renderci conto, per aumentare l'autostima. e questo è molto bello. Sono molto contento che ho sofferto come tutti loro, però l'abbiamo portata a casa. Abbiamo visto una squadra che si è aiutata tantissimo, però un marziano in campo. Sicuramente ha fatto una grandissima partita, ma sappiamo il suo valore, cosa può darci e oggi ci ha dato. Buon anno ai tifosi che ci hanno seguito.